Da marzo sono ambasciatore di One Ocean Foundation, sto portando la carta smeralda che racchiude i comandamenti di un comportamento diverso da parte di chi come noi naviga molto ma da parte di tutti in modo tale da salvaguardare il mare e quindi preservarlo da questo continuo stilicidio di plastiche che vengono buttate in acqua. Questo del periplo della salvaguardia marina è un progetto itinerante, oggi lei arriva a Bari poi si sposterà nuovamente, ci puoi dire un po' le prossime tappe? Sì le prossime tappe saranno a Crotone e poi a Reggio Calabria, Palermo, Gaeta, Porto Cervo, finiremo appunto a Genova in occasione del Salon della Nautica dove porterò un po' tutte le mie sensazioni di quello che avrò visto in mare con i miei compagni di equipaggio e cercherò appunto di portare anche un numero alto di iscrizioni a questa carta smeralda che ricordo si può fare anche da soli su internet, appunto sul sito One Ocean Foundation c'è tutto il modo e il metodo per iscriversi. Oggi viene presentata la carta smeralda ma domani sarà anche un'iniziativa dei ragazzi proprio in mare? Sì infatti sarà molto carino, i ragazzi della scuola Vela quindi i più giovani che si sono avvicinati a questo sport unitamente agli atleti più grandi, più maturi che fanno parte della squadra insieme perlusterando il mare alla ricerca della presenza della plastica per fare quest'opera di pulizia.